Vittorio, abbastanza bene siamo, nonostante la stanchezza perché bisogna lavorare praticamente tutto il giorno facciamo qualcosa tipo di maratona dalle 7 fino alle 10 di sera ci sono sempre dei programmi in diretta l'unico problema che c'è stato oggi il problema con internet ma qui dicono che c'è una operazione di russia contro i mass media ucraini sembrano di fare qualcosa con con internet ma non sono sicuro queste sono state le voci radio funziona facciamo tante preghiere tante trasmissione e c'è grande attenzione che perché perché c'è la guerra ci sono le notizie terribili loro russi sparano proprio le città da gente civile ma andiamo avanti gli andiamo avanti e spero che il signore finisce questa guerra che la madonna ci protegge